Proposte 1. Azzerare la legge Fornero per mandare in pensione gli ultra sessantenni e aprire questi spazi di lavoro ai ventenni, nel pubblico e nel privato. 2. Ridurre le tasse a chi crea lavoro. Oggi un giovane, anche in Sicilia, grazie alla Lega, si apre la sua prima partita IVA, paga solo il 5% di tasse per 5 anni. Ultima riflessione, una revisione necessaria del reddito di cittadinanza. Letta dice che bisogna estendere il reddito di cittadinanza a più immigrati, che sono arrivati qua anche da poco tempo. Io dico invece che bisogna fare più controlli, lasciarlo a chi non può lavorare, ma se qualcuno rifiuta un'offerta di lavoro non può andare avanti a prendere soldi alla faccia dei siciliani che si alzano la mattina per andare a lavorare. Grazie.